I geni hanno un cervello diverso da quello delle persone normali? Soprattutto, come facciamo a scoprirlo? Beh, tanto bisognerebbe trovare un genio che ci presta al suo cervello. E forse è la parte più facile, perché se dovessimo chiedere a un ragazzino per strada, ancora oggi, chi è stato il genio più grande di tutti i tempi, o comunque dei tempi moderni, la risposta è facilissima. Albert Einstein. E, dunque, è proprio del cervello di Albert Einstein che parleremo oggi. Bentrovati, naviganti, nella mia stanza delle meraviglie. Oggi è martedì e ci occupiamo di una storia del passato piuttosto insolita. Beh, quella di oggi lo è in modo particolare. Dicevamo prima, non prima della sigla, ci siamo domandati che caratteristiche può avere il cervello di un genio. È una domanda che si sono fatti in tanti, soprattutto tra gli studiosi, tra gli psicologi, neuroscienziati. Il cervello di un genio è diverso da quello di una persona normale? Ora, per scoprirlo, qualcuno ha pensato di dare un'occhiata da vicino al cervello di quello che è stato spesso indicato come il più grande scienziato del ventesimo secolo, cioè Albert Einstein. Solo che c'è un problema. Einstein aveva chiesto di essere cremato e non voleva che il suo corpo, il suo cervello, venissero studiati, esaminati. Al suo biografo lo disse in maniera chiarissima. «Desidero essere cremato, così che la gente non venga poi a venerare le mie ossa». Einstein fu effettivamente cremato e le sue ceneri disperse sul fiume Delaware, ma il suo cervello no. Che cosa era successo? Beh, Einstein è morto esattamente il 18 aprile 1955, a 76 anni d'età. E Thomas Stoltz Harvey, che è il patologo dell'ospedale di Princeton, New Jersey, che ha avuto il compito di condurre l'autopsia sul suo cadavere, ha eseguito in maniera appropriata il suo compito. Ha determinato, infatti, che la morte di Einstein è sopravvenuta a causa della rottura di un aneurisma della orta addominale. Ma, una volta terminata l'operazione, ha deciso di sua iniziativa di estrarre il cervello di Einstein e di nasconderlo, per poterlo studiare in seguito. Quando si è venuto a sapere, anche se non era strano all'epoca conservare dei resti umani per condurre ulteriori studi, Harvey è stato espulso dall'ospedale e ha avuto la carriera rovinata. Ciò nonostante, era così convinto che lo studio del cervello di Einstein avrebbe potuto illuminarci su quelle che sono le caratteristiche del genio, ci avrebbe permesso di capire che cosa rendeva proprio lui un genio simile, è riuscito a convincere il figlio più grande di Einstein, che ovviamente era furioso non appena ha saputo della notizia del furto. E poi però si è lasciato convincere e quindi ha permesso a Harvey di condurre i suoi studi. Harvey cosa ha fatto? Ha tagliato il cervello in centinaia di pezzetti e migliaia di fettine sottili. Perché? Per poterle spedire ai più eminenti neuropatologi americani, in modo che lo aiutassero anche loro a svelare i segreti di una mente tanto eccezionale. Ci sono voluti però dei decenni perché i primi studi iniziassero a essere pubblicati, anche se i risultati all'inizio non sembravano particolarmente convincenti. Il fatto è che è molto diverso poter condurre delle ricerche su un cervello vivo, ed è possibile farlo, e ricerche condotte sui tessuti di un cervello morto. Ciò nonostante, i ricercatori del Dipartimento di Psichiatria e Neuroscienze Comportamentali della McMaster University in Canada hanno analizzato il cervello di Einstein e lo hanno confrontato con 35 cervelli di uomini della sua età, 8 cervelli di uomini più giovani e 56 cervelli di donne. I risultati di queste osservazioni sono stati pubblicati sulla rivista Lancet nel 1999. Il peso del cervello dello scienziato, si è scoperto, era simile a quello dei cervelli usati come termine di paragone. Che cosa significa questo? Beh, significa che un intelletto eccezionale non richiede necessariamente un cervello più grande, più pesante. Tuttavia, si potevano osservare delle differenze rilevanti rispetto ai cervelli di controllo, che sono cioè quelli delle persone normali. Nel cervello di Einstein, per fare un esempio, il punto finale posteriore della scissura di Silvio, così si chiama, aveva una posizione relativamente più anteriore, cioè più avanzata. A questo si associava un'estensione dei lobi parietali posteriori, che erano più larghi del 15% rispetto a quelli dei cervelli campione. Inoltre, mentre di solito i lobi parietali sono asimmetrici, quelli di Einstein erano simmetrici. Il suo lobo parietale sinistro era equiparabile al destro per grandezza e morfologia. Tutte queste caratteristiche hanno fatto pensare agli studiosi che i lobi parietali posteriori di Einstein si fossero sviluppati notevolmente in giovane età. Secondo gli studiosi, il talento che aveva il grande fisico nel pensiero matematico, nella cognizione visuo-spaziale e nell'immaginazione del movimento erano intimamente collegati a queste particolari caratteristiche anatomiche del suo cervello. Una maggiore estensione della regione parietale inferiore, infatti, era stata osservata anche in passato nei cervelli di altri fisici e matematici, per esempio in quello di Carl Frederick Gauss, mentre si trova di rado nel resto della popolazione. Se volete dare da vicino un'occhiata al cervello di Einstein, lo potete fare ancora oggi, quando si potrà viaggiare. Ed è conservato al Mütter Museum di Philadelphia, che è un'autentica stanza delle meraviglie, dove è possibile osservare numerosissimi e straordinari reperti e campioni anatomici. Quanto ad Harvey, che fine ha fatto? Beh, dopo essere stato licenziato, si è trasferito in Kansas, in Missouri e ha cercato di aprire anche uno studio medico privato, ma dopo qualche tempo gli è stata ritirata la licenza e quindi si è ritrovato a lavorare come operaio in una fabbrica. E nel frattempo che è successo al cervello di Einstein? Beh, i pezzi del cervello che lui aveva tagliato erano tenuti, conservati dentro una giara, sotto un formalino, un vaso di vetro, insomma, che lui teneva al freddo dentro una ghiacciaia portatile. Quando però nel 1997 Harvey, ormai ottantenne, si è deciso a restituire i resti del cervello di Einstein alla nipote del grande fisico Evelyn, che viveva in California, lo scrittore Michael Paterniti si è offerto di accompagnarlo in auto. Un viaggio che gli ha fruttato un articolo, che è stato pluripremiato, insomma, e che poi è stato trasformato in un libro. Ma quando Harvey si è presentato alla nipote di Einstein con queste giare, con il cervello sotto spirito del nonno, la donna gli ha risposto che se lo poteva anche tenere. Quello del cervello, e non solo di quello di Einstein, ma proprio il cervello in generale, quello di tutti noi, è un argomento eccezionale, straordinario, ne parleremo ancora, e lo faremo ancora, nonostante abbiamo parlato anche ieri, lo faremo ancora anche questa settimana, perché personalmente è un argomento che mi appassiona molto, ma insomma, capire come funziona il cervello, come funziona la nostra macchina, è il modo più importante, è la strada principale per riuscire a capire anche come mai ci comportiamo in un certo modo, come mai crediamo a tante cose, e dunque sapere qualcosina di più, avere qualche informazione un po' più precisa su questi argomenti, credo possa essere utile e interessante anche per chi segue il mio canale e segue il mio lavoro. Noi ci fermiamo qui, io vi ringrazio per avermi seguito, ringrazio i naviganti che sono sbarcati sulla mia Isola del Mistero, la pagina Patreon dove condivido tanti contenuti esclusivi, e grazie a loro che realizziamo questi contenuti e i loro nomi li potete trovare nella sigla di chiusura di questo episodio. Ci vediamo domani con un altro strano complotto ufologico. A presto. A presto.